e bello a tutti ragazzi sono francesco l'animalista e ben tornati in un nuovo video di videogiochi oggi giochiamo ad animal revolt battle simulator allora oggi creiamo nuovi animali ovviamente spugniamo il corpo di un animale direi quattro contro quattro cambiamo timba e spugniamo ecco ora devo andare scusate andare sul torsos e poi decido il dorso in questo caso voglio mettere così aspettate o finalmente sono riuscito a metterlo bene no ok ora andiamo su testa allora aspettate ragazzi voi ci mettete perché io ci vedo perfettamente e voi ci mettiamo all'elefante tre teste di giraffa no devo tornare su let's ok rimbose aspettiamo questo braccio no è sbagliato ragazzi voi non capite quanto io sia in ansia no ok iniziamo questa volta proviamo con aspettate un rocket alley un ippopotamo un elefante un rinoceronte una giraffa contro cinque primati via aspettate ora va molto meglio via cioè gli animali stanno praticamente massacrando le botte e gli animali stanno massacrando le botte e li hanno proprio maccazzati le botte e gli animali stanno massacrando le botte non capisco sono morti tutti ok ho posto oltre al mare ovviamente sono delle fante totalmente scelte ora voglio salvare un animale stranissimo un elefante voglio fare un elefante gigante con la testa e con tre teste di giraffa non 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 è un progetto Grazie a tutti.